La funzione Explorer Documenti è un valido aiuto per poter ricercare tutti i collegamenti diretti e non di un documento. Dall'info clienti seleziono un documento, a caso, e poi premo sull'icona Explorer Documenti. Nell'elenco vedo tutti i documenti collegati direttamente a partire dalla fattura iniziale, quindi vedo il DDT, poi vedo l'ordine da cui è stato generato il DDT, l'ordine cliente, e l'offerta. Inoltre vedo due ordini fornitori che ho dovuto creare per ordinare la merce ordinata dal cliente. Se premo su tutti i collegamenti trovo anche i documenti indiretti, quindi trovo il contratto legato all'ordine cliente e trovo le fatture di acquisto collegate agli ordini fornitori.